Giornata di sport, direttore Sarpi, con gli amici di Milazzo. Allora, Vittorio vuole fare una foto? Aspetta che... Giratevi verso... Però dobbiamo fare una foto. Viva lo sport, viva lo sport! Ciao signorina! Vi lo dico a tutte le categorie che allero, dai piccolini fino ai grandi. Dico, quando giocate, se giocate alla Playstation, se giocate a qualsiasi gioco, si sistemano. Dunque, raccogliamo tutti i cinesini e i pinigli, le porte lasciate le spalle, perché non è cosa vostra. Però prima facciamo la fotografia a un perfumore.